un piccolo camion dei rifiuti esce dal garage blu guarda com'è colorato giallo sopra e blu sotto il cassone si alza e si abbassa il camion dei rifiuti vuole andare su una sbarra il cartello dice salita ripida forse puoi prendere l'ascensore il camion dei rifiuti vuole davvero salire ma non è abbastanza potente le ruote girano a vuoto sta cadendo va a fuoco il veicolo ha bisogno di aiuto subito questo è un elicottero dei pompieri l'elicottero a due rotori aiuteranno l'elicottero a sollevarsi e girarsi dentro ci sono i piloti e i soccorritori l'elicottero vola in soccorso atterra vicino al camion dei rifiuti e spegne l'incendio con l'acqua grazie elicottero hai salvato il camion dei rifiuti l'autista del camion ha bisogno di assistenza medica un veicolo esce dal garage verde la croce significa che è un'ambulanza l'ambulanza ha un lampeggiante questo è il posto per il paziente l'ambulanza ha un'ambulanza l'ambulanza ha un'ambulanza i dottori hanno fretta di prendere l'autista e portarlo in ospedale un carro attrezzi lascia il garage giallo anche questo ha un lampeggiante traina una piattaforma speciale dove possono mettere il veicolo danneggiato il carro attrezzi trasporterà il camion il carro attrezzi porta il camion dei rifiuti dal meccanico grazie il camion dei rifiuti richiede un posto speciale per parcheggiare un meccanico lo ripara urrà il camion dei rifiuti è stato riparato va al garage a rilassarsi grazie 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 grazie